Il voto finale assegnato dalla nostra redazione a questo prodotto di Moleskine è di 8 su 10. È al momento il più votato con 1381 valutazioni per questa categoria. I suoi pregi sono. Stile, leggero, comodo, impermeabile, ottimo rapporto qualità prezzo, robustezza. Il prezzo di questo articolo, insieme a maggiori informazioni è consultabile attraverso il link che trovi in basso nella descrizione del video. Questo prodotto realizzato da Moleskine ha conquistato una votazione di 8 su 10 punti totali. È il più esclusivo di questa selezione. Le caratteristiche principali sono. Stile, robustezza, comodo, ottimo rapporto qualità prezzo, impermeabile, leggero. Se vuoi conoscere il prezzo di questo prodotto o saperne di più clicca il link che trovi in basso nella descrizione del video. Moleskine ha realizzato un prodotto a cui abbiamo assegnato un voto di 8 su un totale di 10 punti. Risulta essere il prodotto più regalato. Si tratta di un articolo molto efficiente e versatile, che offre prestazioni e performance uniche. Puoi acquistare questo prodotto o scoprire maggiori informazioni cliccando sul link che trovi in basso nella descrizione del video. La votazione finale assegnata a questo prodotto di Moleskine è di 8 voti su 10. Online, risulta essere il più venduto. Viene molto apprezzato per queste caratteristiche. Comodo, impermeabile, robustezza. Se ti interessa questo prodotto e vuoi saperne di più o semplicemente vuoi conoscere il suo prezzo, clicca il link che trovi in basso nella descrizione del video. Il voto complessivo assegnato a questo articolo di Moleskine è di 8 su 10. Risulta al momento essere il più desiderato. Le sue funzionalità sono. Stile, leggero, comodo, impermeabile, ottimo rapporto qualità prezzo, robustezza. Se vuoi avere maggiori dettagli su questo prodotto o vuoi acquistarlo, clicca il link che trovi nella descrizione in basso del video. La valutazione di questo prodotto di Moleskine è di 8 voti su 10. Risulta essere il migliore di questa selezione. Ecco le caratteristiche che lo contraddistinguono. Stile, robustezza, comodo, ottimo rapporto qualità prezzo, impermeabile, leggero. In basso, nella descrizione di questo video trovi il link per avere maggiori informazioni o consultare il prezzo aggiornato di questo prodotto. Il voto finale aggiudicato da questo articolo di Moleskine è di 8 voti su 10. Risulta al momento avere il miglior rapporto qualità prezzo. Si rivela una soluzione più che buona dalle ottime prestazioni e, come testimoniano le recensioni, risulta essere molto apprezzato dagli utenti che lo hanno già acquistato. Se cerchi maggiori informazioni e vuoi vedere il prezzo aggiornato di questo prodotto controlla il link che trovi nella descrizione sotto il video. Il voto complessivo di questo articolo di Moleskine è di 8 su 10. Lo valutiamo come la scelta migliore. Un giudizio mediamente positivo per un articolo dalle prestazioni più che soddisfacenti. Si rivela essere un'ottima soluzione. Trovi il link di questo prodotto con tutte le informazioni e il prezzo aggiornato in basso nella descrizione del video. Moleskine ha realizzato un prodotto a cui abbiamo aggiudicato un voto complessivo di 8 su 10. È il più scontato di questa selezione. Questi sono i suoi punti di forza. Comodo, leggero, robustezza. In basso nella descrizione del video trovi il link del prodotto con maggiori informazioni e prezzo aggiornato.